Pediatria fibrosicistica è una patologia autosomica recessiva sistemica, principalmente coinvolge polmoni è apparato gastrointestinale ma anche può coinvolgere nello specifico pure il fegato e il pancreas poi da un punto di vista epidemiologico la principale malattia cronica nei caucasici in Italia abbiamo circa un paziente su 1.500 affetti e i portatori sani sono circa 1 su 26, 1 su 30 è una condizione purtroppo letale ed è la principale causa di disidratazione con alcalosi con perdita di sali, poliposi nasale, pansinusite prolasso rettale, insufficienza pancreatica anche respiratoria ed epatica in realtà comunque la clinica l'analizziamo a breve dal punto di vista genetico dobbiamo dire che innanzitutto è stato scoperto questo gene fibrosicistica nel 1989 è stato infatti uno dei primi insieme a quello della neurofibromatosi questo gene della fibrosicistica sostanzialmente è stato localizzato sulla 7Q codifica per un CFTR che sarebbe un Cistic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator cioè un chiamato anche regolatore transmembrana della fibrosicistica è un canale transmembrana che serve a trasportare gli ogni cloro e sodio appunto trasporto del tipo transmembrana e serve a mantenere le appropriate secrezioni a livello ormonare, epatico e pancreatico troviamo tantissime mutazioni circa 1800 si sta lavorando sempre di più a trovarne altre così come il fatto che abbiamo principalmente io ho qui allencato 5 classi di mutazioni in realtà ce ne sono anche altre che sono state individuate io mi sono soffermato sulle prime 5 perché diciamo sono quelle classiche e diciamo che le prime 3 sono le peggiori le ultime 2 sono con quadri suburinici o pausi sintomatici la classe 1 dà una sintesi assente il 2 dà un blocco di processamento un altro un blocco di regolazione il quarto un alterato di permeabilità il quinto c'è una sintesi ridotta diciamo che a noi interessa sapere soprattutto quello che dà un livello clinico quindi nei primi 3 troveremo insufficienza respiratoria, epatica e pancreatica negli altri invece i quadri subclinici per esempio possiamo avere pancreatiti croniche ricorrenti o altre anomalie magari vengono risparmiate anche alcune anomalie pancreatiche in altre forme insomma oppure possiamo ritrovare pazienti sterili tutto dipende anche dall'attività residua che rimane poi del CFTR come vedremo dopo in questo tal senso anche possiamo introdurre quello che è il concetto di genotipo e fenotipo perché comunque parliamo di una variabilità fenotipica che non è da confondere con la penetranza incompleta la variabilità fenotipica ci indica una scala di gravità di una malattia per esempio da 1 a 100 e dipende da fattori genetici quindi dal tipo di mutazione, da geni modificatori che sono dei geni che sono mutati sono altri geni mutati oltre a quello della fibrosi cistica e che possono influenzare l'outcome quindi la prognosi della malattia e anche diciamo l'outcome a livello fenotipico dal punto di vista invece della penetranza incompleta o completa ovviamente questa è una situazione diversa cioè è l'espressione di un determinato genotipo fenotipicamente per esempio la penetranza incompleta avviene quando per esempio c'è una minore cioè il genotipo non si esprime fenotipicamente al 100% questo può accadere per esempio nella distonia che abbiamo la penetranza che può essere al 40-50% come vuole soprattutto paratologie autosomiche recessive mentre quella completa riguarda per esempio tutti gli omozigoti recessivi che manifestano il fenotipo recessivo e tutti gli omozigoti dominanti o gli eterozigoti che manifestano un fenotipo dominante comunque anche poi faremo dei video sulle patologie genetiche e analizzeremo meglio questi aspetti il canale inoltre dove si trova principalmente si trova a livello della mucosa bronchiale dei seni nasali, dell'epididimo, del fegato e delle ghiandole sudoripare in particolare che cosa accade prima? accade che c'è un alterato ovviamente mancato funzionamento di questo canale e in particolare il sodio si accumula nella cellula richiamando acqua quest'acqua non viene eliminata dalle secrezioni esocrine del pancreas, le gonadiche, dell'epididio bronchiale, delle pebiliari quindi causando questo accumulo di acqua tipico della fibrosi cistica infatti poi vedremo anche delle caratteristiche tipiche cliniche e inoltre le ghiandole sudoripare anche vengono convolte come diciamo perché in questo caso viene a mancare il riassorbimento dei sali dal sudore ipotonico primario e infatti si noteranno dei livelli di cloro elevati nel sudore tant'è che esiste un test che si chiama il test del sudore che veniva soprattutto prima molto usato adesso comunque c'è anche un test molto importante di screening della fibrosi cistica e questo lo vediamo anche e che sarebbe il test della tripsina monoreattiva e questo anche lo vedremo successivamente quindi a livello clinico in linea generale possiamo dire questo che ci sarà una disfunzione delle ghiandole esocrine per esempio a livello pancreatico compromettendo la digestione in realtà anche il pancreas può essere compromesso poi con l'avanzare della patologia a livello endocrino dando il diabete embellito soprattutto in età più adolescenziale adulta e ilo da meconio poi possiamo avere per esempio l'intaccamento delle ghiandole bronchiali con BPCO infertilità o ridotta fertilità alcalosi ipocloremica per l'intaccamento delle ghiandole sudoripare e cirrose epatiche appunto per anomalie delle vie biliari come dicevo prima ci sono degli aspetti correlati all'attività residua del CFTR se abbiamo meno di un per cento di attività la malattia si svilupperà a livello polmonare e avremo anche insufficienza pancreatica con una prognosi negativa o meglio un'aspettativa di vita ridotta comunque la prognosi rimane negativa poi se l'attività al 5% viene risparmiata la funzione pancreatica mentre se è maggiore di 10% abbiamo soprattutto i pazienti pausi sintomatici con pancreatiti cronici ricorrenti e sterilità esiste una storia naturale quindi un'evoluzione della fibrosi cistica perché nel neonato ce ne accorgiamo subito per esempio se c'è una fibrosi cistica o comunque abbiamo un fortissimo sospetto con l'iloetameconio questo specialmente nelle prime ore quindi quando non c'è l'espulsione del meconio possiamo supporre che c'è una fibrosi cistica poi nel lattante per esempio abbiamo steatorrea, maldigestione, caloponderale alcalosi ipocrolemica da valutare con l'emocassanalisi e poi dispnea, rientramenti costali di tosse croniche ed enfisema a livello polmonare quindi a livello anche dell'asso naturale dobbiamo dire che nel bambino tende ad evolversi per esempio a livello nasale diciamo nella parte delle vie aeree più alte abbiamo sinusite e poliposi anche poi a livello polmonare tosse ed espettorato purulento e troveremo anche steatorrea nell'adulto ci saranno sempre sinusite croniche e poliposi a livello respiratorio, bpco, temottisi a livello gastroenterico, istruzione intestinale malassorbimento e a livello pancreatico, diabete mellito qui analizziamo vari quadri allora innanzitutto nel 85% dei casi si può manifestare insufficienza pancreatica con feci steterroiche traslucide voluminose e malodoranti edema ipoprotidemico anemia del lattante deficit di coagulazione perché ci sono dei meccanismi dipendenti dalla vitamina K e il ralentamento e il resto della crescita poi abbiamo dei test indiretti come la ricerca dell'elastasi fecale e l'asteatorrea sulla raccolta di feci nelle 72 ore dove troviamo un'espezione maggiore il 7% dell'integra di acidi grassi e poi dosaggio delle vitamine liposolubili e dosaggio anche, diciamo, valutazione della coagulazione in questo caso dato che è una condizione sintomatica bisogna gestire il paziente appunto sui sintomi cercando di compensare la mancanza di succo pancreatico e di enzimi tramite la somministrazione di enzimi e di vitamina A, D e K abbiamo poi l'idio da meconio come dicevamo prima nel 90% dei casi manifesta entro il primo giorno di vita e se il neonato non elimina il meconio subito comunque entro questo primo giorno anche, diciamo, proprio poi esistono dei test che vediamo se fanno il secondo o terzo giorno di vita che ci danno conferma comunque se non c'è l'espulsione del meconio allora si tratta di fibrosi cistica molto probabilmente ci possono essere un 10% dei casi di malformazioni del colono retto come la malattia di Hirschsprung che è appunto un difetto di innervazione del retto con l'atomia e quindi non vengono eliminate le feci comunque alla base abbiamo insufficienza pancreatica e anomalie segretorie della mucosa poi abbiamo la distal intestinal obstructive syndrome che è dovuta all'amento della viscosità delle escrezioni e convolge soprattutto l'ilio terminale il colon destro con sintomi ostruttivi o subostruttivi quindi avremo distensione addominale il meteorismo il dolore, l'inappetenza e il vomito e poi possiamo individuare una massa palpabile a livello della fossa riga di destra ancora abbiamo epatopatia fibrosicistico-correllata con anomalia nella secrezione della bile e l'ostruzione di otti biliari il coinvolgimento appunto epatico si valuta anche tramite la presenza di trono neonatale quindi l'aumento di transaminasi epatospreno-omegalia colisistile e coletocolitiasi e troveremo anche delle complicanze soprattutto a 13 anni come la cirrosi e a 17 anni come l'ipertensione portale quindi si stavano le patologie importanti a livello della nutrizione troveremo soprattutto malassorbimento quindi avremo un ridotto apporto energetico un aumento della richiesta di energia e poi insufficienza pancreatica esocrina questo porterà anche a dei limiti auxologici perché ci saranno ritardo del crescimento ritardo della maturazione scusate scheletrica con anomalia che possiamo valutare dall'orex del polso per vedere il nucleosessificazione del carpo poi si può sviluppare la gerda, la depressione e anche l'astenia altri quadri a livello pancreatico sempre troveremo il diabete perché come dicevamo il 10% dei casi evolvono nell'adulto e nell'adolescente perché viene a causa dell'infiammazione di essere distrutta anche la parte endocrina quindi è importante monitorare la glicemia e l'insulinemia con la curva da carico orale dopo di 8-10 anni valutare l'eventuale presenza di litiasi e calcolosi renale e poi i seni paranasali come dicevamo ci può essere sinusite cronica per l'accumulo di staglio di secrezioni o poliposi nasale perché l'infiammazione crea un aumento della permeabilità vascolare e la depolimerizzazione dell'acido ialuronico della sottomucosa nasale infatti si crea edema ed aumento del volume della sottomucosa quest'ultima perché si è strofretta perché a livello delle cellule etimoidali la cui parte ossa è inestensibile la mucosa proprio a seguito di queste etime ma di questa mente per l'abituale vascolare si è strofretta e fuorcendo dal miato superiore e quello medio e quindi si formano i polipi le complicanze sinusali determinano soprattutto ostruzione respiratoria cefalea anosmia ipogeusia rinofonia chiusa e idrorrea diciamo che il quadro più importante è quello polmonare perché dobbiamo valutare soprattutto a parte che è quello più frequente sono molto importanti anche perché sono letali e quadri polmonari infatti dal punto di vista patogenetico troveremo la produzione di un muco denso e vischioso da parte delle cellule epiteliali e bronchiali con una compromissione della clearance mucociliare e quindi anche questo può favorire l'insorgenza di una proliferazione batterica per infezioni polmonari e quindi si crea un loop proprio perché questi pazienti tendono a avere sovrainfezioni e iperproduzione di muco dopo dall'infezione e quindi si crea sempre questa alterazione diciamo a livello delle vie respiratorie poi ci sono tanti patogeni che compromettono ancora di più la situazione come per esempio il pseudomonas ruginosa lo pneumone è molto grave l'aureus i micobatteri ce ne sono di tanti tipi i sintomi ovviamente saranno tosse che è una tosse grassa è data la presenza anche questo muco denso e vischioso con l'espettorato muco crulento dispnea quindi sarà spesso il fenomeno istruttivo ed è sacerbato con lo sforzo emotisi e bronchiti il follow up si va tramite l'esame obiettivo l'espettorato quindi va valutato con anche l'antibiogramma e la spirometria l'evoluzione spesso è importante anche perché possiamo avere BPCO quindi enfisema fibrosi bronchiettasie air trapping e il muco nelle vie basse aeree troveremo anche ascessi sovrainfezioni cuori polmonare i possi e ipercapnia e quindi necessitano di ossigeno terapia e si fa il trapianto polmonare per quanto riguarda la terapia importante abbiamo detto anche poco fa il fatto di fare l'antibiogramma la cultura anche per il rischio di sovrainfezioni bisogna fare terapia antibiotica e si può fare una somministrazione contemporanea per os quindi azitomicina per esempio ciprofloxacino per via endomenosa aerosolica con l'azitreo monamola colincina comunque tra e più patogene più difficile radicare abbiamo il pseudomonas l'mrsa e anche il cepacea e possono aumentare il rischio di fatalità e poi abbiamo il salbutamolo per viene datore che serve per broncodilatare e corticosterote antinfiammatori per la flocosi fisiochinesiterapia che sono delle manovre per smuovere il muco e poi attualmente esistono delle terapie geniche che agiscono proprio sulla mutazione CFTR e in ultima stanza il trapianto del polmone diciamo che è un po' l'ultimo trattamento che si fa per quanto riguarda la diagnosi c'è il test del sudore diciamo può essere usato ovviamente c'è chi diciamo lo usa ancora anche in passato veniva usato anche perché era proprio il gold standard adesso col fatto che c'è anche il test della tripsina immunoreattiva che è un test di screening diciamo c'è un po' una c'è stato un po' il sorpasso diciamo da parte di questo test nei confronti del test del sudore comunque rimane un buon riferimento e il tampone viene imbevuto di una sostanza che stimola il sudore che si chiama pilocarpina e valuta la concentrazione degli elettroliti se è maggiore di 50 sospetto la fibrosi cistica mentre se è maggiore di 70 sospetto ancora di più la fibrosi cistica il test della tripsina è molto importante perché l'ho detto si fa il secondo o terzo giorno di vita prelevando una goccia di sangue dal tallone del neonato e valuta soprattutto la tripsina che è prodotto dal pancreas esocrino che viene assorbito da una carta bibula e quindi vedrò che ci saranno valori elevati se c'è la fibrosi cistica questo perché vengono studi i totti pancreatici e tutto ciò avviene anche indipendentemente da quello che sarà lo sviluppo della malattia pancreatica clinicamente manifesta comunque bisogna stare attenti perché ci può essere anche un aumento fisiologico nei lattanti però poi diminuisce mentre la fibrosi cistica questo aumento che riscontriamo rimane e quindi ho detto prima un test di screening poi abbiamo l'analisi genetica visto che ci sono 1800 mutazioni e 5 classi principali bisogna ricercare la classe in modo da valutare anche il tipo di terapia da fare poi ovviamente per lo screening del portatore sano se questo è positivo viene suggerita la fecondazione in vitro e se viene invece valutata durante la gravidanza in corso bisogna cercare la mutazione nell'embrione nelle forme più atipiche la diagnosi può essere tardiva e troveremo azospermia ostruttiva poliposi natale e pancreatiti croniche l'indicazione al trapianto invece dipende dalla frequenza dal tipo di esacerbazione di sovrainfezioni se la spirometria ci dà una FEV1 sotto al 30% quindi valori molto bassi e poi episodi di amortisi frequenti quindi significa che la patologia è ben instaurata la sopravvivenza a 5 anni diciamo si riduce soprattutto se c'è la PPCO quindi è negativa comunque a 5 anni a 5 anni Grazie.